I gatti. I gatti. I gatti. I gatti. I gatti e l'apocalisse. Questi sono i temi che stasera toccheremo. Incredibili. Incredibile correlazione tra i due. I gatti e l'apocalisse. Vedete nel lontano 1970 quando i gatti inventarono internet decisero di conquistarci. Passo dopo passo si instaurò un rapporto tra l'uomo e la bestia. E la bestia soggiogò l'uomo. I loro musetti, i loro occhi da schizzo sono diventati il motivo per cui vengono amati soprattutto dal genere femminile. Ma noi cagnari ci stiamo ribellando. È dall'alba dei tempi che il team dei cani trionferà. Alla fine trionferà perché trionfa dall'alba dell'uomo. Trionfa dall'alba dell'uomo. Quindi chi di voi in chat è un gattaro e chi di voi in chat è un cagnaro. Su. Avanti ditecelo. Vogliamo saperlo. Vogliamo saperlo. Tranquilli. Se rispondete male verrete bannati. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Cristian. I gatti al cinema. Comunque siamo arrivati. Non ho letto. È? 28 mesi la madonna. La storia più lunga della mia vita. Mi fa piacere di esserne partecipe. Ah. Cagnaro. Cani. Cani tutta la vita. Io sono gag taro. Sto piangere. Sto per piangere. Scusate. Ricordo il primo episodio di Love Deaths and Robot. Esatto. Gattarissima. Vabbè. D'altronde. D'altronde. Kowalski. Grazie mille. Rotto Valhalla. Dieci. Grazie per i dieci. M-M-Tail. Grazie. Grazie. Viva i patatoidi. E sei anche il moderatore. Io ho due labrador. Che tipo di gatti sono i labrador? attenzione. Naturalmente cani. Qualcuno ha scritto viva la figa. Giusto ma. Viva la pussy per restare in tema. Enrica. Grazie mille. Ha regalato a pie un abbonamento. Quindi pie sai chi ringraziare? Rotto Valhalla. Solo i gatti? È come maschi contro femmine. C'è la risposta è ovvia. Cosa ti piace di più? E qua il 2022 ci mette lo zampino. Gatti best animal? No non concordo. Comunque detto ciò è ovvio che i gatti deficitano in certi punti e i cani deficitano in altri. Ciò in cui eccelle uno eccelle l'altro. Deficita l'altro. Non sono capace. Non sono in grado. Fatto sta che stasera ragazzi si gioca a Stray. La storia di un gatto gay. Un gioco per playstation 5 sviluppato da playstation 5 che è uno studio particolare che ha appena acquisito la playstation 5 dove in sostanza interpretiamo un gatto un micio un micio miau che deve sopravvivere in quella che è un'apocalisse. Cioè in realtà non la so la storia però la presumo dal trailer. In quella che è un'apocalisse dove gli umani gli androidi sono gli umani sono stati sterminati dagli androidi e gli androidi queste creature queste entità che meritano ovviamente la disgregazione e il deassemblamento hanno purtroppo avuto la meglio. Ora io ve l'ho sempre detto cosa penso degli androidi. Gli androidi devono essere distrutti e sterminati. Quando un giorno daremo dei diritti a delle macchine io giuro che scenderò in piazza per per violentare queste macchine con ogni mezzo possibile sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale. Il giorno in cui una macchina avrà dei diritti. Porca puttana io sarò lì per evitare tutto ciò. Combatterò con i denti con le unghie non me ne frega un cazzo. Questo è scritto nero su bianco sappiatelo. Chiamatemi chiuso di mente non me ne frega. Preferisco essere chiuso di mente che essere soggiocato da un ipad gigante con le tette. No non lo farò. No non lo farò. Non avranno il mio spirito. Perciò cosa c'è? Qual è il modo migliore per combattere contro gli androidi? Molto semplice. Bazooka caricati a gatti. Ed ecco che questo è Stray. Un gioco dove noi interpretiamo un soldato che ha un bazooka caricato con palle di pelo che fanno prrr e gli spari molto forti su questi androidi. Purtroppo la trama del gioco e il gameplay non sono questi però mi sarebbe piaciuto. Invece stasera giochiamo a questo. Ah che carina! È un gattino! Ah aspettate! Che piccola coincidenza. La mia telecamera è sbagliata. Dovrei stare qua. Lo so ragazzi. Aspettate. Aspetta. Ok. Eccoci. 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 Vedete che se al gatto togliete gli occhi... è un ratto. Vedete che se al gatto togliete gli occhi... beh non ci vede più. Allora bestiasse. Prima vi saluto poi partiamo. Donna con bistecca a 9,99. Dani Ferro, Giadux, Matti Polemica, Giangi, Daxin, grazie mille, bentornato. Guerriera, Elisa, Ciacci, Fumico, Pidgeon Detective, Snowwear Ranch, Magic Sword, Jaco Cassa, Alessia, Alessia, Caglia Waifu, ma Dio Bono, Amaranth, cosa? Logan, poi Emanuele, Il Guaritore Ferito, Grateful, Criuporlex, poi abbiamo Devil, eccolo lì, Dragon, Fenderger, Non Sono Intelligent, ottimo, Dino Budino, Shiver, Massimo, poi The Gender Fluid, eccolo lì, Enrica Sella, Enrica Bella, Shiver e qualcuno, qualcuno di nuovo, dai qualcuno di nuovo, eccolo, 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 Simoada, sembra il nome di un elfo, mi viene in mente Nea, Neuada, non mi ricordo più come si chiama, quello di El Boy, Principe Leuada, Neuada, non sono in grado, sono dislessico. Partiamo? Che dite? Sembra che sto parlando direttamente alla chat, non è così, non è così, partiamo? Dai, giochiamo, su, basta cazzeggiare, oggi siete in tanti? Più o meno, siete più o meno in tanti? Oggi siete tanti, ognuno di voi vale tanti, oggi siete legione, oggi siete esercito, partiamo. Anche Logan, gastino, ho voglia di strapparmi gli appendici. Ora cerchiamo di capire la storia perché immagino che la storia sia molto, molto preponderante. È un gioco di Annapurna, Annapurna è una casa di sviluppo che in realtà ha sempre fatto delle piccole perle. Questo gioco usa un sistema di autoosservataggio, non spegnere il sistema, ma piuttosto picchialo. Modifica il valore finché l'immagine a sinistra non scompare e quella al centro è appena visibile. Allora, per voi, in voi, amen. Ho alzato un pelo di più la luminosità. Com'è l'audio, ragazzi? Si sente? Can you hear the trumpet? È buono? Ottimo. Inizia partita. Pronto? Sì, e vai, e ci sto cliccando, che cazzo mi chiedis? Vai. Shhh, zitti, zitti tutti. Ok, vedete? L'apocalisse. Ci sono dei tubi, ottimo. C'è della flora. Ecco la fauna. Volume altissimo. Abbasso il volume. Ma sono di più i gatti. Pensavo che di gatti ce ne fosse uno. Ci hanno mentiti. Pensavo che fosse l'ultimo superstite. Sarebbe stata una storia molto triste. Sarebbe stata una storia che avrei voluto giocare. Ah, ma siamo un cucciolo. Magro. Ah. Come si è alzato? Alien. Eccoci. Uno smaranao. Siamo rossi? I gatti rossi si dice che hanno la carne buona. C'è nel senso. Belli movimenti. Mamma mia, che azione. Attenzione. Già ci accoppiamo. La gatta nera. Veniamo sodomizzati? C'è fuori in faccia? Ah, ci sta dando i baci. È un rituale di accoppiamento affascinante, quello delle scimmie. Ma non quello dei gatti. Ma a tutte le code? Attenzione. Madonna, ma siamo proprio una puttana. C'è nel senso. Ma da tutti proprio. Ma saranno i genitori? Ma che cazzo ne so. Tu? Ah, mamma mia. Attenzione, si evolve. Che meravigliose specie. Fate benissimo le animazioni però, dai. C'è nel senso. Il pelo è un po' Un po' duro, però ci sta. Azzo. Posso volare? No. Ma abbiamo un collare? Abbiamo un collarino? Abbiamo degli splendidi occhi color verde. Chissà se abbiamo la visione notturna. Perché io non vedo un cazzo in sto momento. E la porta è chiusa. Ok, quindi questa qua è la nostra tana. Col tasto... Col... Col... C'è un tasto per miagolare. Il tasto cerchio si miagola? Wow. Qua? Quel cazzo di verso fa? Prà. Ok, dove devo andare? Ha fatto qua? Sì, sì. Ha fatto qua. Triangolo. Ah, ok. Semplicemente dobbiamo... Ottimo. Beh, l'acqua ce n'è in abbondanza. Ci serve il cibo. Ed è qui che inizia la nostra avventura. La conquista dell'uomo. Per la sua carne. Perché noi non siamo altro che un enorme allevamento per i gatti. Un giorno moriremo. Un giorno ci mangeranno. È molto denutrito, sì, sì. Cibo. Cibo. Quello è cibo. È proprio un predatore alfa. È. Mangiamo? Ci sono le impronte. No? Ottimo. Dello yoga. Mattutino. Posizione del sole. Eh sì, sono i fratellini questi. Quindi la mamma cos'è con la nera? Non so. Io sto deducendo roba, ma non... Bello. Dentro le mura. Che cazzo di lingua è? Un gioco coreano. Quel gatto è passato attraverso le foglie. Guarda. Ancora. Se ne sbattono. Come fai ad odarli? Ma chi ha mai detto che odie i gatti? Ma ragazzi, ma voi dove vivete? In un mondo dove se io dico che una cosa non mi piace, vuol dire che la odio? Ma poi non ho mai detto che i gatti non mi piacciono. A me piacciono tutti i tipi di animali. E i fucili. Ma le due cose non vanno... Cioè, nel senso... Cioè, sono gusti... Ognuno c'è i suoi gusti. Bene. Eccoci qua. Ma il gatto nero, chi è? Quello che porta sfiga? Qua ci sono delle scale. Allora, prendiamo un po' domestichezza con i tasti. Con tasto X saliamo. Con tasto X però non scendiamo. Possiamo nuotare? Affogò. No, non possiamo nuotare. Ottimo. C'è la fisica delle piante. Perfetto. Beh, cazzo, ma che belli i movimenti però, eh. Addirittura... L'acqua. Ok. Ok. Cerchio per miagolare. Ma i gatti non miagolavano solo per comunicare con gli uomini? Quindi questa è una bugia. Aspetta che qua c'è una scorciatoia. Voi che siete esperti... Nel settore. I gatti non miagolano soltanto con gli esseri umani? Non fanno... Eh? Non sono avvezzo. Non credo. I gatti abbaiano. Ah, ok, grazie. Ok, finalmente lo sappiamo. Facciamoci le unghie su questi funghi. Come? Fermati. Ah! Arca puttana, è tosto, eh. Le prime forme di scrittura si stanno evolvendo. Io ve lo continuo a dire. Si stanno evolvendo. Ok, direi anche che ci siamo fatti abbastanza le unghie. Ma? Qua? Ci arrivo fin là? Ma certo, ma certo! C'è una grata qua, aspetta. Vabbè, abbiamo sette vite, quindi voglio dire... O è una leggenda che è quella? Qua? Acqua? È saggio bere quest'acqua? Vabbè, ormai... Buon, a posto. Pisciatina per marcare il territorio? No? Non spruzziamo dalle gonadi strani feromoni? No? E niente. Ma chi è il maschio alfa tra noi? Sto gatto è rotto. Il gatto nero è rotto. Palese. Non soffro di vertigini, per fortuna. Che vuoi tu? Che succede? Oh no. Oh no, no, no. È malato. Va abbattuto. A posto? Resti indietro, altrimenti. Attenzione, vuole essere montato. No! Porca puttana, un'occasione sprecata. Era lì. C'era il triangolo sul... Ma porca puttana. Vedi? Vedi? E niente. Addio i micini. Ma io non lo so. Sì, però anche voi non aspettate un secondo, un attimo. Tu. Questo è montato tu. Lo smontò. Vabbè. Però non ho... Non ho i cojones. Mi ricordo il gioco per telefonini. Quello lì delle pipe, dei tubi. Non so se avete presente. Stavo per volare giù. C'è un tasto per correre. Attenzione, ci siamo rotti. Wow. Ma a cazzo possiamo salire ovunque? Molto dinamico. Sono il re del mondo. Attenzione. Abbiamo della struttura. Human personal. Personal. Only. Ma qui non si può proprio entrare, però. E niente. Via. Tieni premuto X per saltare a catena. Beh dai, le animazioni, ragazzi. Tanta roba. Veramente. Complimenti. Ha detto tanta roba. E' uno di noi. E' un giovane. Sì, sono giovane. Questi sono tulipani. Papaveri. Ma non c'è il fisico del gioco. Allora, la versione fisica non lo so se c'è. Io l'ho acquistato. L'ho acquistato comunque. Perché pensavo fosse gratuito con l'abbonamento. Io passo dalla pedana. Mica carrettini. Come voi che mi spacco le ginocchia. Le ginocchia. I gatti hanno le ginocchia? Ma certo! Ne hanno tre. A zappa. Allora, dicevo. Che stavo dicendo? Ah sì, l'ho acquistato. 29,399. Perché pensavo fosse gratuito. E invece no. È gratuito con l'abbonamento extra del PlayStation Plus. Dio. Bellissimo sto effetto. Tieni il premuto L2 per osservare. Allora, qua ci sono... Sono folli. Oddio. Troppo, troppo veloce la visuale. Minchia. Bonnie. Ah! Vabbè, però purtroppo non si può sbagliare. Nel senso. Attenzione, una cutscene. Tocca a noi. Attenzione. Siamo ancora tardo della cucciolata? The End. Ed è così che finisce Stray. La storia di questo gatto. È stato intenso, però è stato a quanto, diciamo, realistico. Perché alla fine della cucciolata assolutamente se ne salvano in pochi. Ecco. Attenzione. Attenzione. Citazione incredibile. Se finisse così. Ma quindi cos'è? Un film della Pixar? No, io piango. Dovete smetterla di piangere. Le emozioni sono debolezze. Non ci siamo rotti qualche aggiuntura? Zopica? Vediamo? Sì, zopica. Ok, ci siamo. Vabbè, ma tanto sono in grado di rigenerare le loro cellule. Creature aliene. Ok. Allora, direi che bere st'acqua? No. Anche no. Vabbè, dobbiamo sopravvivere, ragazzi. Con calma. Con calma. Adesso ce la faccio. Dove cazzo siamo finiti? Oddio. Oddio. Pensavo che sarebbe stato fighissimo un gioco di sopravvivenza col gatto. Ma cazzo. Non hai un cuore. No, non me l'hanno montato. Che succede? C'è qualcosa nel sacco. È un gatto. Il gatto è nel sacco. Il proverbio. Il proverbio è vero. Cos'è? I capelli! Cos'erano? Morbidi. C'erano delle palline con delle... Quello voglio. Cos'era? Era un alieno? Era un facehugger molto... Molto puccioso. Perfetto, aspetta. Guariti. Guarda. Realistico. Ok. Gioco della bottiglia? No. C'è un tasto per correre? Allora. Con il tasto... No, non c'è un tasto per correre. Dove cazzo siamo? Non si vede niente. Vabbè, ficane siamo in giro, ragazzi. Cosa vi devo dire? Qua... Acqua. Non si può andare. Sto schiacciando un po' di tasti per vedere se si attiva... Oh, mi ha gollato. Ma non ci provano neanche a cercarci i nostri familiari. Ottimo. Parenti serpenti. Anche se sono gatti, eh. Vale sempre la regola. E qua? Immondizie. Qui c'è una bestiarina che stava mangiando sta roba. Possiamo mangiare anche noi? Voglio esplorare, ragazzi. Voglio godermelo un pochino. Voglio vedere se è uno di quei giochi... Cioè, se è un open world? Se è stratificato? O se... È abbastanza. Soldato mancato. Salto mancato. Soldato. Come cazzo le trofeo ho guadagnato? La città morta. Dio. La città morta. Ok. Vediamo se... Qua possiamo salire? No, non possiamo salire sulle canne di bambù. Cazzo, come ho fatto bene. C'è le... Eccoli, eccoli. Cosa sono? Cibo. Dove sono? Spariti? Attenzione. Non li vedo. Cos'erano? Hmm. Hmm. Et... Voilà. Alla faccia... Cos'è questa tecnologia? C'è una telecamera? Ok. Ma... Quindi... Cioè, noi ci siamo leccati due volte alla zampa e la zampa è guarita? È il gatto di Superman? Ottimo. Virile. Perfetto. Vediamo se c'è qualcosina di qua. La saliva miracolosa. Cazzo, voglio uno shampoo fatto così. Magari mi ricrescono i capelli. Allora, si può saltare un po' su tutto, ma... Uh, ce n'è un altro. Ma sono grassi! Ci sono spariti. Ma li vediamo solo noi? È tutto un gioco nella nostra testa? Qua non si può salire. Ma... Ma... Altra telecamera. Ci spiano. Perfetto, perfetto. Un robot! Eh? Help. Soffermiamoci sulla p... Di help. Un robotone! Bello! Però... Ovviamente saranno loro quelli... Con più umanità. Sicuramente più umanità di me. Allora, quindi... Dobbiamo cercare la città a sto punto. Ce la faccio a salire sui cavi? Come si fa a salire lì? Hmm... Hmm... Ah no, devo andare di là. Ho sbagliato. Voilà. Voilà. Yo'hai. A posto. Di qua. Di là. Di qua. Easy. Ma non ci sono... Collezionabili? Qualcosa di nascosto? Madonna mia. Che bella illuminazione che c'è, ragazzi. Follow me. Perfetto. Qualcuno allora ci sta indirizzando. E pensa che il gatto sia in grado di leggere. Ottimo. Non so chi sia doppiamente imbecile. Qua. Eccoci. E ma? Bello. Acqua? Acqua? Che fa... Che cazzo? Cos'è? Cos'è? È addestrato. Un gatto da circo. Non un gatto da caso. Un gatto da circo. E adesso? Abbiamo un... Ah... Vedi? Wow. Oddio. Ho l'ansia. È ripartito? No. Adesso sono curioso, ma se avessi provato a passare per le ventole... Ah, giustamente il gatto butta giù le cose. Ci sarà sicuramente un... Madonna, ma non c'è nulla là sotto. Sarà sicuramente un trofeo buttando giù tutto. Vediamo. No, vai giù. Realistico. Ok. Dai, ci siamo. Perfetto. Mettiamo un po' di ordine. Ok. Come mio gatto! Eh sì, sono tutti uguali. Ok, poi a quel punto... Di qua. Oh, c'è il vetro qua. Oh, c'è. C'è il vetro qua sopra? Ci siamo? Ok. Ah. Ah, vedi? Ho capito. Ha intuito tutto. Addio. Ottimo. Allora, è il fatto che sia un... Dimmi che lasciamo giù le zampine. Sarà adorabile. Dimmi di sì. Adorabile. Lasciamo giù le zampine. Sporchiamo dappertutto, va? Ah, giustamente ci facciamo le unghie qua. Ottimo, ottimo. Che simpatiche creature. Non c'è un computer, un laptop dove possiamo sederci? Basta, basta, staccati. Qua? Ma anche questo, dai, perché no? D'altronde. D'altronde, mica è nostro. Mi piace la posizione AU. Perfetto. Colla vinilica buttata via. Possiamo farci lunghe qua? Pare di no. Ah, sei re. Uh, acqua? Oh, là. L'acqua della grondaia. Non c'è nulla di meglio. Tappeto persiano. Mi devi dare due milioni. E rovinato da un gatto persiano. No, non lo so che razza sia. Non ne ho idea, francamente. Voi che siete esperti. Che gatto è questo? È un gatto. Da strada. Da circo, anzi. Come? Come faceva a saperlo? Questo gatto non è un gatto normale. Ah, che ansia. Stanno per tenderci un agguato. Io l'avevo detto. Aspetta, aspetta, aspetta! Aspetta. Ma non posso correre. Ma che palle. Dov'è? Ho sentito qualcosa? Voglio, 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 voglio analizzare quegli affari. Cosa sono questi affari? C'è un robot. Shhh. È vivo? Salve. Orcoboy, eh. Chi è? Ci siamo. Il primo contatto. Con la tecnologia umana. Avete visto? Avete visto? Adorabili. Ci vogliono distruggere. Ci vogliono distruggere. Neanche il nostro passato. Quando noi ci distingueremo, loro elimineranno anche il nostro ricordo. Non esisteremo più nell'universo. Basta. Ucciso. Per sempre. Ucciso. Incredibile. Vabbè, quindi. Di qua. Oggi abbiamo ucciso. Ottimo. Proseguiamo. Vediamo un po'. Prè. Questi cosi non me la raccontano giusta. Nel senso che... Possibile che in un gioco dove c'è un gatto come protagonista io trovo più puccioso degli alieni. Queste uova con le zampe sono meravigliose. Guarda che carine. Le zecche, ragazzi. Viste da vicino al microscopio. Sono adorabili. Eh, fatto bene l'animazione facciale. Si corre. Tieni premuto il rd per correre. Merda. Oh, oh, oh. Eh, guarda. Sono ciccioni. Sono bellissimi. Non potete nulla. Aiuto. Ah. Merda. Sono bellissimi. Sono anche abbastanza innocui, francamente. C'è nel senso. Ma sono... Sono... Cosa sono? Cosa siete? Bisogna testare il gioco, ragazzi. Testiamo il gioco. Volevo un attimo capire che cosa fanno. Ok, ci succhiano. Ok, adesso lo sappiamo, non lo facciamo più. Andiamo avanti. No, no, no. Tranquilli. Non è successo niente. No, 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 no. Non c'è bisogno. No, non c'è bisogno. Basta, 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 basta. Ah, vedete? Si... Ma... No, scusa. No, sali so... Ah! Dai! No, bastardi. Pensavo ci fosse un segreto. Ed è... A posto, a posto, a posto, a posto, a posto. Non sono neanche in grado, questi affari. Sono bellissimi, sembrano flubber. Però... No, 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 no. Aiuto. Aiuto. Ok, così? Ziggo zago? Vedete, hanno dei nidi. Adesso non lancia fiamme? La butto lì Porca troia Vado di qua? Ho sbagliato? Non lo so Non ne ho idea Oddio Fica sono tanti Sono tanti Hanno fame No 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 A mangiarne uno? Magari sono nutrienti Dai Ci abbiamo fatta Pulciosi Che cazzo di suoni Uh Se miagoliamo C'è un'interferenza Ah È come Monster & Co Anziché però le risate dei banditi I miagolì dei gatti No però potrebbe avere Un senso Inquietante Andiamo Mamma mia che meraviglia L'RTX Eh Rende molto più realistico Un gioco che alla fin fine Non è poi così graficato Però appunto Ha delle illuminazioni eccezionali Quindi la rende tutto più Realistico Qua giusto Io che cazzo Ne so E mo Che c'è scritto? Morte certa? Mi tuffo? Non posso Ah di qua Dei noodles E' proprio E' proprio quel gioco lì Accoppiata vincente Gatti E cibo asiatico Cioè voglio dire Se non vedeva sto gioco Veramente Ok Buono Per adesso si Sembra un normalissimo Platform Per ora Corriamo Dai Godiamocela Un po' di spirit Un po' di cavallo selvaggio Eccoci qua Ah dovremmo nutrirci Prima o poi Attenzione 11 ottobre Perfetto Dove devo andare? Di là? Uh No E niente Ah aspetta però Forse se salto di qua No non posso Posso entrare dentro? Yes Ma perché devo miagolare? Ah Ah quindi miagolare E' proprio Una dinamica di gameplay Ok Adesso che ho spostato Sto a fare Vediamo un pochino Ah fin qua ci arrivo? Ah ottimo 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 Eh lì forse però Ci arrivo? Sa anche volare Voilà Ha fatto molto bene Le Le ambientazioni Veramente Molto figo Molto dettagliate Ok Ma Dov'ado? A tutti i miei agoli che sentite Li sto facendo io Per immedesimarci Nel gioco Divento bestia Divento creatura Eh non ha imparato nulla Per un attimo Per un attimo Ci ho sperato Oh ho temuto Ok quindi Qua 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 sopra Opla Di qua Opla Di là Ok Perfetto Non so dove cazzo andare ragazzi È tutto uguale Sto posto Mi ricorda un film Dove Jackie Chan Ci combatte E ci vince Qui Ah di qua Di qua Arte Vabbè però Le diamo un taglio Un senso A questa vita Nel senso C'è C'è uno sviluppo Nel gameplay O devo solo saltare Sulle assi Perché inizio a rompermi Il coglione Eccoci qua La madonna Che cazzo di miei agolio era Ha ruttato Ma i gatti ruttano Certo Ah quindi Con i miei agolini Praticamente vediamo La strada che dobbiamo fare Molto figa come roba Qua? No Ho fallito Ah di qua Non vedo nulla Grazie all'RTX Non vedo nulla Realistico Oh A posto No Non finisce più Ok Che cazzo Qua Qua Ok Ok Easy Sento suoni Attenzione Pericolo No Qua? Cos'è? Mi infilo Easy Ok Perfetto ragazzi Dai 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 Perché c'è una città Con i robot L'abbiamo visto Ah devo bloccare lì le ventole Allora c'è una cosa C'è credo un cavo Quindi c'è un generatore Devo Devo uccidere Uccidere l'elettricità E' così che si evolvono E' così che l'evoluzione Qua è chiuso E se invece mi ci proietto dentro Uh 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 Guarda qui Guarda qui Guarda qui E' un relay Ma che davvero Abbassa così poco Ottimo Le luci che si accendono Sono tipo le frecce Che ti dicono dove andare Non è che sono tipo Sono proprio le frecce Che mi dicono dove andare L'appartamento Minchia ma stiamo facendo Un capitolo dopo l'altro O sono un pro gamer io Ma che bello ragazzi Cioè quasi si può Sentire Il pulviscolo Serve aiuto Vabbè allora Distruggiamogli casa Là Perfetto Che è sta musica C'è una musica Da rituale Da accoppiamento Ottimo I libri li abbiamo buttati giù Dimmi che abbiamo Anzeccato una password Dati danneggiati Serve aiuto Stia succedendo Corpo necessario Download Corpo necessario Corpo necessario Oltrepassa la porta Accedi Questo gatto E' un crackers E' un hackers Ragazzi Senza farla posta Trova Un corpo Trovo un corpo Ma non è che poi possiamo Mettere la coscienza Del gatto dentro Un cyborg Non è che il cyborg Decide di mettere La sua coscienza Dentro di noi Geniale Questa porta è chiusa Potrebbe essere Una storia vincente Ragazzi Più complessa del previsto Allora Questa stanza Mi sembra una stanza Sicuramente Non ha norma Computer Perfetto Roba da staccare Anzi da collegare Hmm Gureken Ok Qua Ottimo Database distrutti Server Quelle sono chiavi Qui ci sono delle chiavi Ok Non so cosa stio facendo Lo sto facendo E basta Ok Vediamo un po' No Devo trovare Quattro batterie Altre tre batterie Dai troviamo tre batterie La porta si è chiusa Oh shit E adesso? E niente E' finita Sto 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 cercando di capire Ragazzi Dove sono le altre batterie? Qua? Ce n'è una qui? No Questo Stile qua mi ricorda District 9 Dove ci sono Gli alieni Che cercano di recuperare Le parti metalliche Per poter tornare a casa E costruire la nave Veramente figo Si lo sto facendo Non so cosa sto facendo Ma lo sto facendo bene La batteria della ventola di prima E' andata Era prima Un genio E qua la porta si è chiusa Quindi è finita Forse devo staccare questo Forse se stacco questo Eh no però Non lo posso più staccare Una volta attaccato Sto iperventilando Dall'ansia Qua? Ah Ce n'è un altro qui Ok Clingon Perfetto Abbiamo acceso Un'altra Lì c'è un'altra Lì c'è un'altra batteria Come si arriva? Da qui immagino Eh Eh Bella la visuale così Dinamismo Getta via La madonna Ok Allora L'ultimo Dove sta? E soprattutto Come faceva il robotone Ad arrivare là sopra? Lo vedete ragazzi? E' un cubotto bianco Ah è qua Perfetto Oh Girati Voila Abbiamo staccato Probabilmente I circuiti Il mainframe I circuiti pensanti Del sindaco Della città Abbiamo risolto La crisi Energetica Crista Qualcuno stava Cercando di fare Un download Un upload Della propria coscienza Su un altro corpo Che ansia Bene E quindi? Cos'è che c'è scritto? E non si ricapisce Cosa c'è scritto lì E' una testa? C'è una scatola Con una testa Che è sta roba? Non sto capendo Gli è caduta la testa? Oh merda E mo? Che cazzo ha combinato? E adesso? Che devo fare? Beh metti giù sta roba Che cos'è? Non capisco cosa sia Ok Doviamo cercare di ricomporre il robot Eh ma Non Qua sotto possiamo Girare la scatola No non c'è niente Ok Fatemi vedere un attimo Se dobbiamo Possiamo prendere qualche altra roba E ce la facciamo No la testa Non posso prenderla ragazzi Non me la fa Non me la fa prendere Ho volato Deve esserci qualche altra roba Immagino Qua No Qua non la posso mettere Getta via Ho rotto tutto Ho sbagliato Minchia Che salto incredibile Semiagoli Non posso meagolare con la roba in bocca Realistica Semiagolo Non succede niente Semiagolo Non succede niente Devo capire dove cazzo andare Andiamo di qua E c'è un punto che non ho visto Ascolta Qua sulla sinistra Mi stava per volare giù Forse di qua si può passare Qua sopra No A destra non posso andare Qua Posso arrivare sopra No Da cazzo di andare ragazzi Qua 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 E niente Mi arrampico Ma non trovo soluzione Nella stanza precedente Che è? Cosa? E quindi? Prova a far rotolare la testa Vediamo un po' Allora facciamo un armi Intanto questo portiamocelo di là Ma Magari qualcosa serve C'è sicuramente qualcosa Ah E vaffanculo E che cazzo ne so Si è aperto una roba qui Aspetta allora E che cazzo ne so Che cosa ne so io? Scusa Cosa diavolo è? Ottimo B12 Ma figa Cosa di Flubber Willow Vabbè Ma voi non sapete neanche Che cazzo sto dicendo Vabbè dai Chi è che conosce Robin Williams No no Morph Morph è molto più morbido Bene perfetto Se conoscete Robin Williams Dovete aver visto Almeno una volta Flubber Ehm Flubber Perfetto Uccidiamo anche questa macchina Morta Come fa a fluttuare? Che marchi ingegno è? Ha funzionato Ha funzionato Sono libero Grazie Quasi non credevo alle telecamere Un gatto nella città morta Io mi Non mi ricordo il mio nome A quanto pare la mia memoria è danneggiata Bene Sono rimasto intrappolato nella rete elettrica Per troppo tempo So di aver lavorato per uno scienziato Che viveva qui Per adesso puoi chiamarmi B12 Così c'è scritto Al mio esterno Ottimo E al tuo interno Che c'è scritto Vabbè La vitamina B12 È l'unico modo ragazzi Per affrontare la giornata Questa è la morale del gioco A girarsi per la città morta È pericoloso Ma hai l'aria di uno Che sa come gestirsi Usciamo da qui Seguimi Ma come mai parla un gatto E il gatto lo capisce? Cioè non voglio già rompere i coglioni Ma non intuisco sta cosa Cioè non capisco Questa cosa La chiave per la porta Questo lo ricordo Geniale Aspettaci penso io Ah posso mandare i comandi Credibile Molto bene La batteria è già quasi scarica Figa ma fai cagare Vieni qui Che vuoi Da va Pronto Che c'è? Questo dovrei indossarlo Col cazzo Attenzione Sono un gatto domestico Che fastidio Ah ci è entrato dentro Ok quindi Possiamo È pesante Ma è adorabile Ma che situazioni Lo vedete? Che carini Che carini Però quando ce l'abbiamo In sacoccia È troppo pesante Il gatto E come si fa a richiamare? Mi sto morendo però Questo zaino è stato progettato Per i piccoli quadrupedi Come te Alla faccia Trovi scomodo? Stare ispirando Come un drago di comodo Non preoccuparti Ti ci abituerai Ho digitalizzato La chiave Che l'ho conservata Nello zaino Cosa vuol dire? Nel senso Come è possibile? Bello Ok Abbiamo un inventario I ricordi Questi sembrano Dei ricordi Della vecchia coscienza Però lui detto di essere Un'intelligenza artificiale Era chiusa In quel computer In un database Eccole qua le chiave Va bene Facile Se un oggetto Ti incurugisce Puoi mostrarla a me Incurugisce O chiunque altro Nel caso facessimo incontri Adesso usciamo Da questo appartamento Va bene Va bene Rovino Casa tua Guardami Guarda come rovino Casa tua Allora Sta porta La possiamo aprire Seleziona oggetto Da usare Chiavi Done Buono 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 I droni E i gatti E l'apocalisse E questo è il futuro Che vogliono Hipster Premi Per usare la torcia Uela Che figata Bello Ma scusami Ripeto I gatti non hanno mica La vista notturna Non dovrebbe essere in grado Di farcela da solo Questo gatto Questo gatto Questo gatto Deficito Devo Devo Non vedo Creepy Vediamo se c'è da raccogliere qualcosa Intanto è partito Lo Stranger Things Qui Attenzione Guarda qua Non posso muovermi C'è un codice 3748 Ricordatevelo Codice 3748 3 3 3 7 4 8 Che memoria Ferrea E quindi Questo è il nuovo God of War Ragnarok Beh ottimo Direi che Abbiamo fatto passi avanti Nella serie Wow Che posto Quella sensore laggiù Credo sia importante So per certo Che dobbiamo salire Ma se mi agono Succede qualcosa No La batteria del Robottino Come funziona Si vola Oddio Guarda qua Mamma mia ragazzi Ha anciucciato Tutta la città Che schifo Sembra all'interno Del naso I bronchi polmonari Vabbè Ah Ma questo qua è ricordo Mi ricordate? Vorrei che un autobus Mi schiacciasse un piede Come faccio ad aprire l'inventario? Ah così Vedete? E' questo il posto Attenzione Cazzin Aspetta Ricordo L'oltre Ho la sensazione Di esserci già stato E' da lì che provieni? Io? No Non sto capendo Ho promesso a qualcuno Che ci sarei andato Ma a chi? Stai parlando da solo Ciccio Questa cartolina Sì che si ispira Il murale Prendiamola Ma è un ladro Vandalizza Nuovo oggetto ottenuto Perché ha questi ricordi? Come sono arrivati fin qui? Proseguiamo Ma si sofferma molto Sul suo essere 3% Ok quindi Collezionabili sono questi Va bene Mostra B12 Oltre Troveremo Torneremo a vedere le stelle E' una promessa Strano Strano Che ansia Guardate Dio Cristo No 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 Però sarebbe stato più figo Se fosse stato un survival Cioè nel senso Immaginatevi che figa L'idea di Di sopravvivere Nei panni di un gatto Quindi cacciare Procacciarsi il cibo Mangiare gli scarafaggi Graffiare le facce Delle persone Defecare In micro quantità Accendiamo la luce No Accendiamo la luce Ho detto Come si accende la luce Che ho fatto? Dobbiamo arrivare A quel grosso ascensore Giusto? Non so Sembra una via d'uscita Poco ma sicuro Come si accendeva la luce Ah così Eh Non c'è nulla qui Ah Lì ci sono i Gli spunzoni Per non far cacare I piccioni Oh Let's go Comunque i tasti Non sono male Nel senso Pratico No c'era scritto Una roba Fe Ho perduto Bene Bene Siamo fottuti? Siamo forse fottuti? Penso di sì Run boy Oh merda Non mi prenderanno Non mi prenderanno Non scendere No no Cazzo Sali 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 la Sali la Sali da qualche pa Basta che sali La Orca puttana Ma non è che indietro c'era un collezionabile? Mannaggia me Mannaggia Ok 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 Sono fottuto Boni Bonini No Erca Ma forse la luce di distrae Sì 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 Li ferma In qualche modo li ferma Aspetta Testiamo Porca troia li fa scoppiare O è stata una coincidenza O scoppiano di loro Come funziona? Ma sono grassi Ma che belli sono Sono bellissimi Sembra dei testicoli con le zampe Ne voglio un po' Eh C'è un robot Attenzione I bassi fondi S O S Parliamo in codice morph Sgan away Grazie mille per il nome Roto Valhalla Una creatura Teme giustamente i gatti Perché sa quello che ha fatto gli umani I loro creatori E quindi scappa Progeni del male Che è sta luce rossa Ah seguiamolo Sì ok E non posso correre E beh Così È incredibile Ha proprio ragione Intanto qua c'è un'Icnusa Ma sarà contaminata anche questa Attenzione Qui c'è un negozietto Carina eh Qua abbiamo Altre bestie Tutti terrorizzati Da noi Vabbè Prima o poi si abitueranno Ah Questo si è chiuso in casa Che è sta musica Siamo dei gangster Zopica L'abbiamo preso? L'abbiamo preso Il più debole del branco? C'è uno sciamano C'ha un bastone Fortissimo Potente Perché i robot Si vestano? Lo sciamano non permetterà Il passaggio Che belle le facce Inespressive Di questi Di questi androidi Uccidiamoli tutti Sterminiamo la loro De loro tribù Sfruttiamoli Per i nostri scopi Mi desidera Mi vuole Ma io C'ho i robot Non so se fidarmi ragazzi Presentati Cristo santo La voce del demonio Ah forse dobbiamo scoprire Anche la lingua E come facciamo? Si direbbe Che abbiano un linguaggio Tutto loro Ah ma lui non parla La lingua di robot Ma scusami Il gatto ti ha mangiato La lingua Cristo Tu non sei uno Zurk? Come Zurk? Vabbè Noi siamo Pratici Della tua specie Sei benvenuto Nel nostro villaggio Perché non mangi Nessuno di noi? Perché non mangi Nessuno di noi? Quindi i Zurk Sono quei cosi Bubosi Che abbiamo visto prima Ma perché il robottino Non conosce Non riconosce Gli androidi? Vuol dire che Lui ha una coscienza Caricata Ma forse di un essere umano A sto punto O di qualcos'altro ancora Dice che veniva Dalla rete Strano Si infittisce il mistero Si infittisce E a cui si ispirò La Bibbia Mosè La leggenda di Mosè Si ispira a questo Ha un gatto E un tizio E un monaco Con un bastone Vedete il popolo Ebreo che viene guidato Verso la liberazione E' proprio uguale Ragazzi E' ottimo Hai l'aria smarrita Di cosa hai bisogno? Tieni Cartolina Una foto dell'oltre Ricordo Stascensore non è funzionante Lo sanno tutti Che è impossibile uscire da qui Beh tutti tranne Gli oltraggiosi Eh Solo che sono tutti scomparsi A eccetto di Momo Momo? Puoi provare a parlargli Se vuoi Ma ormai ha smesso Di cercare una via di fuga Meglio così Fuga? Vive su in quell'edificio Con l'insegna Di neon arancione Ok Andiamo da Momo De Favela Nel mentre E qua penso che parta La Esplorazione Non esitare a chiamarmi In qualsiasi situazione Sono qui per aiutarti Il guardiano ci ha suggerito Di parlare con Momo In cima al grande edificio Con l'insegna Il neon arancione È la nostra unica pista Per uscire da qui Ma noi esploriamo Prima noi esploriamo Come faccio a riporre Il robottino? Ho sbagliato Ho sbagliato Così si accende la luce Permettolo giù Così si apre l'inventario Col tasto destro Un gaz Eeeh Salve Posso? Uh Vediamo che si dicono Ti prego non interrompere La mia meditazione Per mezzo di strane immagini Oh mio dio mi scusi Parla con Johan Con Johan E tu sei? Perché andare fin lassù? Tanto non c'è niente Positivo Credo che Momo possieda Delle fotografie simili Gli l'hai mostrata? Attenzione Anya Yala Johan Johan E tu sei? Ronin Alla faccia Pensavi su serio Di poter prendere l'ascensore Non l'ho mai visto in funzione E compio 374 anni domani Auguri E quello? Arte rupestre? Cos'è sta l'altra? I nostri antenati I malleabili Ci hanno lasciato questa città La nostra casa E un loro lascito Finchè noi Gli abbiamo uccisi Buono Quindi noi siamo i malleabili Giustamente I fragili Potevano chiamarci Siamo in più bella figura Allora Secondo me Adesso andiamo avanti col gioco Tranquilli Una modalità survival O un gameplay survival Non avrebbe rovinato l'opera A parte che non sappiamo ancora Se sia survival o meno Però secondo me Non avrebbe rovinato Non è vero che il survival Toglie spazio Alla Alla narrazione Come ho visto Qualcuno di voi ha scritto Dipende da come viene posta Prendete un Subnautica Subnautica Il primo Subnautica Una narrazione In linea Con il gameplay E E Dalla narrazione Che è abbastanza intricata Dipende da Come si fanno le cose Ragazzi Roshi Mi occupo delle piante Gli umani Le hanno migliorate tantissimo Eh Ormai necessitano Di poca luce Gli umani Le hanno migliorate tantissimo Mi basta aggiungere Un goccio d'acqua E guarda quanto crescono È davvero una tecnologia Straordinaria Gli umani Però Ma se mi agono Li mando in tilt Ti prego dimmi di sì Cazzo sarebbe stato Bellissimo ragazzi Una palla Una palla Una papapalla Uh Ce n'è un altro Interagiamo Esploriamo ragazzi Dai Lito Non reggo Non leggo Non leggo Come si fa a scendere Con il dialogo Siamo fortunati Ad avere Ad avere questi strumenti Che ci permettono Di respingere gli Zurg I bassi fondi Hanno i loro pericoli Ad essere preparati È essenziale A volte capita Di imbattersi Di immagini raccolte Come questa Tutte riguardanti L'oltre Che dire Un sogno meraviglioso Probabilmente loro Quindi loro sono Rinchiusi in questa città E tu chi sei? Un cowboy Atzotz Attenzione Ciao Sono il rivenditore Del mercato Svoltare A sinistra Tra 200 metri Tu mi porti qualcosa E io ti cedo Qualcos'altro In cambio Molto lineare Uno spartito Musicale Raffinatissima Creazione artistica Di un compositore Rinomato Ti costerà Una lattina Energizzante Di me Non posso chiedere Ok Cerchiamo una lattina Energizzante Ricordatevi di cercare Una lattina energizzante Ragazzi Ci serve Chi è questa signorina? Vince Guarda quante perle Tra questi rifiuti Doni dal cielo O di qualsiasi altro luogo Ecco Perfetto Avvivono di scarti L'importante è essere felici Dobbiamo cercare una lattina energizzante E via Che si governa Sul mondo libero Attenzione C'è un distributore di lattine Vedi Però Non sappiamo i tasti Dimmi che ce la facciamo Inizio a dubitare Del 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 Realismo Bevanda energizzante Ciuchei Mia Però qua abbiamo Un vendicante Un hippie Parliamoci Fa della sua musica Il suo vivere Ciao sono musicista A corto di canzoni Ah portiamolo Spartita Questo Questo suona E noi balliamo E voi Ah che canino Ottimo E qui? Ah ci si accuccia Nel mentre che suona Ma ha una chitarra Fatta con un Un boccione di Di benzina Geniale Questo si può tradurre? No Questo cos'è? La curiosità uccise il gatto Orca puttana Non riesco a muovermi No Aiuto E' tutto invertito Non capisco Ho i tasti invertiti E' finita Toglietelo Toglilo Schiavo Me ne sono liberato Che strano oggetto Qua? Traduciamo qua? L'accesso alle fogne È vietato a causa Della proliferazione Di Zurk Restate al sicuro Restate nell'aria Protetta Il vostro Dittatore preferito Prendi il misterioso codice Della cassaforte Subito Usa il codice E non ho letto Quale cazzo è il codice? Vediamo un po' Mostra B2 Vediamo che ci dice B2 C'è scritto Segui i numeri Ma si direbbe Un codice binario Una sequenza di 0 e di 1 Dobbiamo riuscire A decifrare questo codice In modo Un modo o nell'altro Deve avere a che fare Con questa cassaforte E beh è un genio Ci penso io Cazzo C'ero quasi però Me lo sentivo Ragazzi E se Ci avesse azzeccato? Avete messo Cioè avete idea? Avete idea Di cosa sarebbe stato? Incredibile Allora diamo la bevanda energizzante Al ciccio qua Questa? Cos'è? Ciao di nuovo Cosa ti serve adesso? Un'antica relicchio Lasciata dal talento Dei nostri antenati Ti costerà 3 lattine energizzanti Di meno non posso chiederti Ah cipigna No 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 Quindi abbiamo Lo spartito E il cavo elettrico Un assortimento di cavo elettrico Il migliore sul mercato Te lo cedo in cambio Di un detersivo super etilico Non posso scendere di più Di così Ok allora Compriamo lo spartito La tina Via A lei Ecco a te Thank you Ciulato Nuovo oggetto tenuto Analizziamolo Vediamo cosa ci dice Il robottino Per curiosità Si intitola Questioni di fili Porca troia Mi piacerebbe Ascoltarne la melodia Detto fatto Questioni di fili Anziché Questioni di feeling Solo feeling The darkness Grazie mille Bestiazza per i 18 mesi Incredibile 6372 Il codice Secondo me Adesso lo vado a fare Allora Diamoglielo spartito Questioni di fili Questa è bella Ascolta Attenzione Pare di stare a Zanzibar Merviglioso Ovviamente ci sarà il copyright Su questa Aspetta Sta riposando il gattino Beh però Continuate a dirmi Il codice sarà tipo 11010 E nessuno di voi Si è accorto che Nel tastierino Non esiste lo 0 Complimento Basta 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 Fermati Fermati Ma va avanti così in eterno L'abbiamo condannato A questo Ragazzi Nel tastierino Non ha lo 0 E' la prima cosa che ho pensato Anch'io Vedete 1 2 3 4 5 Infila 9 Eh se no Ci avrei provato subito A buttare un codice binario A cazzo Vediamo il semiagolo qua No le luci non sfarfallano Molto arrucchiabile Non me ne voglio andare da qui E' così caratteristico Pare di stare a Napoli Per i colori Per i profumi Dove vado? Si può andare di sopra? No E niente Non so dove cazzo mi trovo Ha smesso di suonare Vediamo se ci dice qualcos'altro Ma basta Ma sei Sei proprio un curioso Grazie della melodia Mi eserciterò Pensi di poterne trovare altre? Vabbè però cazzo Che ti dai un dito Chiedono il braccio Questi eh Cerchiamo altra roba Allora Il cavi ci costa Cos'è che ci costa? Aspetta ragazzi Scusate Torniamo un attimo indietro al volo Ricordatevi voi cosa ci serve Perché io non me lo ricorderò mai Per il cavo ci serve Assortimento di cavi elettrici Ci chiede detersivo Ricordatevi Detersivo super etelico Mentre per il quadro Ci chiede ben tre lattine energizzanti Ah è questa? Che c'è scritto? Il mercato Ha la faccia E qua? Niente Qua c'è da salire Non è che posso facciare un'altra lattina? Hmm Hmm Potrebbe essere uno di quei giochi stronzi Che nasconde No non posso salire lì Peccato Sarebbe stato carino E che il gioco si sviluppa anche in verticale Quindi dobbiamo cercare di fare attenzione Qua c'è da esplorare un mondo eh C'è ogni anfratto Qui la parte divertente di sto gioco Penso che sia anche questo Come un po' ogni gioco di Annapurna Che poi aveva una Una Tutti gli ultimi tipo The Patles eccetera Che hanno comunque un'esplorazione C'è delle mappe aperte da esplorare Quindi una natura mezza open map C'è sempre stata Quindi è figo come roba Attenzione Vediamo chi c'è qua Neko plants Grow in the dark You don't need to do the sun To enjoy net E come ti si fa? Traduci Piante Neko Crescono al buio C'è bisogno della luce per vedersi la natura? Ah natura c'è scritto Ho letto net Sera Posso? Uuh fatissimo quello È quest'angolo della città? Mi struscio Si è sciolto? Che carino Che carino Come ti chiami? Rico Ti succedono sempre le cose più strane È bello Non mi arrischio a lasciare il villaggio È troppo pericoloso Inoltre il guardiano è l'unico in grado di aprire quella porta Ok Zack L'avevo lasciato in strada e il giorno dopo gli zurg l'hanno completamente consumato Ottimo Che follia è? Possono mangiare di tutto Quindi magnano Magnano l'immondizia Mi struscio ancora Magari in cambio del loro amore Mi daranno I loro averi No A quanto pare le mie attenzioni non vengono contraccambiate Ho palesemente chiesto del cibo Tornerò da loro quando avrò bisogno di qualcosa D'altronde sono solo un gatto Qua? Niente Come si è qua dentro? Aspetta Mi faccio i cazzi degli altri Come l'ha? Bello Hai i colori Bellissimo sto gioco Ascettico Spartito Mio Quanta musica Quanta bella musica Gli indomani Simpatici Mi piacerebbe ascoltarne la melodia Dopo la portiamo al ciccio E lui? Carl Il giornale di quelli che vivono a livello 2 Il piano superiore è di qualche anno fa Ma è pur sempre una lettura Ah quindi ci sono più piani con diversi robot E noi siamo finiti ovviamente nel piano più basso Ok vediamo cosa ci dice dell'altro dell'oltre Perché prendersi il disturbo di cercarlo? Stiamo bene dove stiamo? Carl non voleva altro dalla vita Giusto Fu Giusto Ci sta Ci sta Attenzione 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 Difficile 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 Si può fare? No 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 Sì Incredibile No Ho sbagliato Ho mandato in buca quella rossa Quella bianca È finita Divento io la palla Qua c'è qualcosa Cos'è? Ricorda Ok Sul serio ingeriscono questa roba? Il prototipo originale non prevedeva un apparato digerente Forse in qualche modo si sono evoluti imitando gli umani Oh attenzione Parla degli umani Pensi che dovrei assaggiarlo? Non voglio essere rispettoso delle loro usanze Ma magari lì ci pisciano anziché mangiarsi Nuovo ricordo 7% Non esitare a chiamarmi in qualsiasi situazione Bla 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 Sì ho capito Ho capito Non mi devi ripetere le robe mille volte Allora andiamo sui ricordi Sul serio ingeriscono Ah ok Ci fa semplicemente Ci ridice il dialogo Ok E ce n'è da esplorare Di roba ragazzi Mi sta piacendo un botto comunque Molto molto bello Eccomi qua Ciao Sono qua per cagare il cazzo Ti serve qualcosa? Puoi dirmi dove posso trovare Il mitologico cielo azzurro Che idea meravigliosa Giustamente perché loro non vedono mai la luce del sole Ho cambiato il brano Ma che bello che è Anch'io voglio un jukebox in casa Adesso iniziano a ballare e a sfondare completamente tutto quanto il locale Sera Che bel bar Un bartender Che bello che è Voglio Un barbon Liscio Sei nuovo da queste parti Cosa posso fare per te? Eh niente Non ho nulla da darti Eh scusa Questo è collassato Ma se ti rubo Magari ha una bevanda energizzante Potrei rubarvi una bevanda energizzante Vediamo un po' Mi sta Mi sta Ah Con che faccia Semiago lo ride Abbiamo vinto Vabbè Allora noi siamo arrivati da sopra Non mi ricordo più Sì 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 Ok passiamo di qua Bello però È la canzone di prima E mi sa che finchè non le sblocchiamo ripetono le canzoni Capito Probabilmente Qua c'è della tossicodipendenza Un'orribile storia In effetti un po' ci somiglia a uno Zurk Se guardato da lontano almeno A sentirli e a vederli sono tanto carini Ma non farti ingannare Vedi Quei cosi Addentano il metallo Sono spaventosi Ottimo Ottimo Ma è bello che tutti parlano con un gatto Questo cosa mi fa ridere Allora Barattatore bucato super etilico Attenzione È la bottega di nonna E la programmazione da Elliot Allora dove è il bucato super etilico Perché il bucato super etilico Sarà detergente È il secondo Il bucato super etilico Quindi il bucato super etilico È di qua Andiamo al bucato super etilico Qui c'è un barbone Scusi eh Un altro cowboy Zoi A quelli lì conviene A quelli lì conviene Non rovesciare altri secchi di vernice O Cosma Andrà su tutte le furie Cazzo li abbiamo versati noi prima Mi dispiace molto Zoi Vuoi dire che troviamo i secchi Che abbiamo buttato giù prima Sarebbe fighissimo Magari abbiamo ucciso qualcuno Beh mi piacerebbe avere qualcuno Sulla coscienza Nel gioco ovviamente C'è twist Contestualizza Allora saliamo Sopra Vediamo cosa c'è di qua Ok Ok Sto rompendo tutto E niente Uh un ricordo Rip humans Rip umani Gli umani sono stati i primi abitanti Di questo luogo A quanto pare Sono tutti morti Come credici si sente a morire Che cazzo è sta musica Lo so Detto da me Shoko Ma avranno raggiunto La vera pace Proverò pace Una volta morto Non so cosa sia La morte Per un'ia Scusami Non volevo deprimarti Proseguiamo Da me non frega un cazzo Guarda Ok ok Qua c'è un'altra lattina Ce la portiamo a casa Ce ne servono tre Mia Ma ne possiamo prendere un'altra Scusami Mi sa di no No Non ci dà più il tasto interazione Hmm Dov'è la lavanderia Ico Bla 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 Non lo so Sto cercando in giro E questa Ah ci faceva le unghie qua Ottimo Niente Nada Va bene Può andare Il guardiano ha detto Che non è stata opera Degli zork Ok Vabbè Non so cosa sia O stava parlando qualcuno Allora qua c'è una strada No da qui siamo arrivati Qui non possiamo tornare indietro Giusto Sì perché poi qua c'era Tizio che era scappato via Ma dov'è il posto Per fare il bucato Deve essere qua da qualche parte Sembra il Marocco Sto posto Traduzione La bottega di nonna Ah ma qua ci siamo stati prima Tu sei nonna? Nonna Adoro lavorare a maglia Nonna ha una voce molto catarrosa Forse per via Della masticazione di tabacco Che ha sempre fatto Dall'età di 13 anni Finora ho in tessuto 470 miglia di scarpe 470 miglia di scarpe Non scarpe E' un traguardo impegnativo Ci credo Cazzo Se mi portassi dei cavi elettrici Potrei farti un poncio Mi ispiri Ma non è facile trovare del materiale adatto in giro Ragazzi voglio quel poncio Dobbiamo portargli assolutamente quel poncio Quindi ci serve ancora di più La coccolo Nutre dell'amore per me Si può corrompere Ehm Ci serve Ci serve quel poncio ragazzi Attenzione Altri mendicanti Guap Ti serve qualcosa? No grazie Non da voi ecco Cori La nonna mi ha fatto questi vestiti Molto alla moda no? Oddio Se questo è il risultato E tu? Che cazzo è? C'ha la barba questa E' rotto Bellissimo lui E' bello che quando mi angoli si girano Programmazione da Elliot Bussare alla porta e aspettare che vi apriamo Ah questa è la roba della programmazione Ok qui si può Qui c'è il programmatore Vabbè andiamo al programmatore Dai Però non so se sto bussando alla porta Conterà come bussare alla porta Yes Eh Sera Salve Peta 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 Non riesco a presentarmi perché Vabbè io entro va Scusi Sì Pronto? Scusi Non riesco a presentarmi Non mi dai il tasto per presentarmi Nestor Sei qui per Elliot? E' proprio laggiù E chi cazzo è Elliot ma? Cos'è sta roba? Prendi spartito Yes 3 di 8 Ok Sono 8 gli spartiti Qui abbiamo un'altra scritta Siamo stati programmati per essere schiavi Cosa? Ma dal 2 Va bene giorni Possediamo un'anima Spero che un giorno Gli oltreggiosi trovino una via di fuga da questo inferno Momo Ah quindi Momo pensa che i robot abbiano una coscienza Povera Momo Povera stupida Momo Quindi noi aiuteremo i robot in questo gioco C'è cazzo Un gioco dove si interpretano i panni di un gatto E si salvano i robot E' proprio un gioco contro ogni mia cellula Allora Distruggiamo anche questo mobile Ma farsi le unghie sui persiani Cosa implica? Ma pianta Uela Quest'albero è un prodigio della scienza Incredibile che l'ingegno umano abbia saputo creare delle piante che si sviluppano in assenza di luce solare Le forme di vita organica necessitano di alberi che purificano l'aria della città I robot non ne hanno bisogno Cioè nonostante se ne prendono cura E' così che avrebbero voluto gli umani Perché comunque rimane intrinseca la programmazione che gli hanno messo Da schiavi quali sono Attenzione Abbiamo qua un'altra macchina senziente Elliot Posso aiutarti? Elliot non ho un cazzo da darti Mi dispiace Ti salgo sul computer Va bene? Elliot Elliot non Non elabora E' rotto Strano Strano E' un gamer Si si Ha la faccia da gamer Aveva il monitor più piccolo eh Come ogni gamer d'altronde Aveva un monitor più piccolo della media Non so se avete visto Cioè non sto scherzando Se voi guardate Vedete Ha la faccina più piccola Perché con monitor voi cosa avevate capito C'è nel senso Dagli il codice binario Ah si è vero Grandi Bravi 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 Allora Codice binario Vuoi che lega questo codice binario? Un attimo Devo calibrare le mie lenti Ecco c'è scritto Defurbar Duferbar Ah ok Deve andare Strano Chissà d'appuntamento Chi si dà appuntamento in codice binario? Deve andare al Duferbar Non so leggere Quindi devo tornare indietro E lì ci sarà il codice per la cassaforte Ah però Tiriamo giù anche le tende Tanto voglio dire Chi se ne frega Eh chi c'è qua? Il Duferbar dove cazzo era? Madonna Non mi troverò mai In questa città Trovato Il codice dovrebbe essere qua Eeeh Ma dove? Dove lo cerchiamo? Il quadro? Jacob Ah Dipendente del mese Settembre XX27 Ottimo 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 Forse c'è un altro pezzo di codice qui Dobbiamo sparare a cazzo i numeri? I numeri romani? Non credo Prossimo del sicco il cagnolino Al posto di saltare sulle scrivania Le distruggiamo Sì sì cacchiamo in mezzo alla stanza Fai vedere il codice al barista? Dite? Proviamo Non credo perché mi chiedeva cosa Ah sì beh E' un codice binario piuttosto obsoleto Solo un vero patito di tecnologia Saprebbe leggerlo No Semplicemente questo ragazzi Ebbè possiamo provarci Abbiamo il 27 Dai Spariamo a caso tutti i cazzo di numeri Una combinazione di numeri Cosa vuoi che ci voglia? Ho sbagliato strada Settembre Ah è vero Zero Dite? Ma dove cazzo era la cassaforte? Proviamo 0,9,27 Dov'è che era la cassaforte? Non mi ricordo più Era di qua? Oddio ragazzi Non mi ricordo più Dove era la cassaforte No Dove era la cassaforte? No Era di là Era di là Lo zero non c'è Ah già giusto Lo zero non c'è Ma sì ma testiamo A cazzo Ma dai Qualcosa ci c'era fuori Qua la cassaforte Allora L'ultimo è 27 Proviamo È 27 era l'ultimo Non mi ricordo più Cos'è che era l'ultimo? Non mi ricordo più Quale era l'ultimo Sali sul bancone C'è un quadro Prova 19,27 14,27 Vai al bar Allora 14 Io provo prima 14,27 Magari Magari è giusto No 19,27 Attenzione Niente Siete una vergogna Torniamo al bar Cioè deve essere l'altra parte 27 è l'ultimo Ok Torniamo al bar Torniamo al bar Torniamo al bar E troviamo la soluzione Calmi Bonnie Bonnie Su bancone Avete detto Questo quadro qua Eh ma non posso Esaminarlo ragazzi Vediamo se c'è un altro Quadro di qua Ah questo quadro qua Ma vaffanculo Che sta succedendo? Come 1,2,83 Oh Love uguale 7 Zero Love uguale 7 È un delirio E lì ci sono altri numeri Magari Magari Anche quelli No non credo Che questi centri Non cazzo È finita Micidiale ragazzi Ma in che senso 1,2,83 All of 7 Cazzo vuol dire 12,83 Sicuri? 12,83 Proviamo 12,83 Eh ma scusate Allora l'altra data Che cazzo servite? Vabbè proviamo 12,83 Fai un culo Era per depistarci L'altra data Bastardi Bastardi E ci hanno depistato La grande Qual è il numero Che non mi ricordo più E niente Sono dotato Di poca memoria Non posso farci niente Qual è il numero? Dai che chiudiamo così 12,83 Yes Spartito 8 di 8 Oh abbiamo trovato Tutti gli spartiti Credo Boh non lo so Iniziamo a darglieli va? Concludiamo con un po' di musica Musica Assolutamente Guarda Spartito 5 di 8 3 di 8 Allora partiamo col 3 di 8 Dai Senza titolo Questo motivo è composto Precisamente da 44 note Ci siamo Adesso parte la sigla Di Spongibu Mi stai urtando Vabbè Ascoltiamola Soave Zen Per dormire Compilation Lo-fi E niente Se la smettesse di suonare Gli diamo gli altri Ottimo Mi ha ascoltato Morusche Ciapa Sì Ne ho trovate altre Ne ho trovate altre 5.0 C'è 5 di 8 Gli indomani Sembra forte Sta a sentire Shhh Zitti È molto È abbastanza gay Dai Ci fa vibrare le vibrisse Non so se mi spiego Incredibile Che fa Ho preso una mosca Orco boia Gatto predatore Ah dite che era Un momento di Un momento di Un momento di Munizionata Bello Yeah Yeah Beh Beh Però Vabbè Almeno non l'abbiamo pagato Arrivederci Ragazzi Allora Continuiamo la prossima volta Bello 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 Mi sta piacendo Carino Come ogni gioco di Annapurna Ha questo Ha questo Gameplay Dove appunto Abbiamo una mappa aperta Missioni secondarie E esplorazione Io ovviamente sono Un co Non vado avanti Sono un co Poi fate completate voi Il problema è Che essendo io un completista Tendo a voler completare Appunto I giochi E quindi probabilmente Mi perdo un po' La missione principale Ossia salire là sopra Quindi la prossima volta Saliamo là sopra ragazzi Sempre che si possa ritornare Qua in città Ma penso di sì Quindi insomma Ecco Però bello bello Ora Lasciate che Mi lamenti di una piccola roba Annapurna fa sempre bei giochi Fa sempre bei giochi Giochi interessanti Non vengono mai cagati però Strano eh Guarda caso L'unico gioco Che viene cagato È questo Il più commerciale Che abbiano mai potuto realizzare Perché ragazzi Senza offesa Ma questo è il gioco Più commerciale Che si potesse mai fare C'è un gioco Che parla di un gatto Con dei robot pucciosi Ma che è sto suono? Che ansia Che cazzo stava succedendo? Che è successo Sto robò? È indemoniato Aveva la faccia rossa Ma tutti i robot Hanno avuto un'interferenza Avete visto? Che inquietudine Madonna Spaventoso Vabbè Carica l'ultimo checkpoint Due minuti Un secondo fa Dall'ultimo checkpoint Orco Boia Vabbè Abbandona Bello 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 Interessante Carino Siamo al 16% Non male Non male Ah Tra l'altro Piccola parentesi Che vado ad aprire Per poi chiudere Altrettanto Sì velocemente God of War È uscito il primo gameplay Su Youtube Della serie Che sto facendo Appunto io Uno screen dedicato A God of War Dove analizziamo Tutta quella che è La mitologia Non rena Applicata al gioco Tutti i miti del nord E quindi se vi interessa A parte Lasciate che la prima puntata Ragazzi avevo un mal di gola Allucinante Scaracchiavo E continuava Perché appunto Avevo un mal di gola Ed ero un po' Rincoglionito In quel momento lì Però già Dalla seconda Alla terza Inizia ad esserci più ciccia Nel gioco Devo dire che mi sta piacendo Un botto Sia farla che giocarla Ovviamente Perché questo è il mio gioco preferito Quindi insomma E perciò ragazzuoli Eh Se vi interessa Tornate Andate su Youtube Che male Non fa Ok 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 Fine Adesso direi che possiamo Farci le nostre Quattro chiacchiere Come al solito Intanto chiudo qua Come si chiude qua Spegni i gatti Eh La Playstation La Playstation È stata spenta Quanto costa questo gioco 29 euro Adesso però Nel tanto che abbiamo Tempo da perdere Facciamo una bella rassegna Dei giochi di Annapurna Perché io ci tengo A sta cosa qua Particolarmente E vi dico Dato che li ho giocati Quasi tutti E vi dico Quali sono Gli ultimi che hanno fatto Quali sono quelli Secondo me Da giocare Che potete recuperare Perché alcuni Sono veramente Veramente eccezionali Ragazzi Allora Vediamo un po' Annapurna Collection Hmm Oh mio dio Che cosa Ho cliccato No allora Facciamo Annapurna Giochi Ma Vediamo un pochino Vediamo un pochino Vediamo un pochino Tu alminos Non è di Annapurna È di Annapurna Tu alminos È di Annapurna Ah Allora Ad esempio Vediamo Nella sezione Fermi Dal più popolare Dei contenuti più recenti Facciamo i più recenti Ma Facciamo i più recenti Ma c'è un modo per vederlo In Hmm Hmm Allora Abbiamo Neon White Che non ho mai giocato Francamente Non so che cosa sia C'è scritto che è uno sparatutto In prima persona Gioco Puzzle Platform Sviluppato da Angele Matrix Pubblicato da Annapurna Interattivi Però questi sono pubblicati Stray Vabbè Questo qua Sempre pubblicato da Annapurna Open Roads Che non ho idea di che cazzo sia Francamente È uscito di recente Non so che cosa sia The Arthur Escape Anche questo non ho idea di cosa sia 12 Minutes 12 Minutes ragazzi per me è stata un po' una delusione Però Non male Aspetta che c'è una scritta Dino oggi Sono un po' giù per questo Non ho seguito molto Perdonami Eh non ti perdono Invece Di momento che la prossima live Seguirei di più Va bene Ma io non ti perdono stasera Ma ragazzi Ma voglio dire Ciccio Grazie mille Bestiace Solar Ash L'abbiamo portato sul canale Gioco interessante Sempre open map Dove la tizia Non fa altro che andare Sui suoi pattini a rotelli E una razza aliena Cerca di sopravvivere Un olocausto Un olocausto Un devasto Universale Lo spazio e tempo si stanno Corrompendo Distruggendo Bla 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 Noi dobbiamo salvare Le razze aliene Di altri pianeti Molto figo Molto figo Noi siamo La causa della distruzione Di altre razze alieni Però dobbiamo anche conoscere Bla 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 Carino Giocato Io l'ho finito per i cazzi miei Ci sono anche delle boss fight Che ricordano Un pochino Shadow of the Colossus Questo gioco È da giocare Dalla scala di 1 a 10 Vi dico Vi dico Aspettate che Nel mentre Metto una musica di sfondo Dai che altrimenti Non c'è ritmo Non c'è ritmo Non c'è ritmo Eh Facciamo questo qua E via Un po' troppo Fermi Ci siamo Ci siamo Via sempre col blues va Un po' più garbato Eccoci Adoro questa musica celtica E musica irlandese Vabbè Comunque Moquette Non ho idea di che cazzo sia Tradotto dall'inglese Moquette Tappeto vuol dire I am dead Questo qua Ah questo qua è uscito Questo qua è piaciuto parecchio Eccolo qua The Pathless ragazzi L'ho giocato su Playstation 5 Meraviglioso Bellissimo Tutto quanto ispirato alla mitologia mongola Non fatevi grosse e grasse risate Alla mitologia delle popolazioni mongole Quindi le divinità del cielo L'aquila Eccetera eccetera Si interpretano i panni di una cacciatrice Protettrice Di queste divinità qui E tu devi riunire Con un gameplay molto dinamico Dove devi praticamente scivolare Anche qui pattinare Con l'arco colpire A ritmo I bersagli Gli occhi di questa bestia Devi cercare di distruggere Cacciare diversi Diverse Divinità nemiche Corrotte E liberarle La cosa bella è che Il gioco è diviso a mappe Ok In ogni mappa Tu sei All'inizio inseguito Dalla bestia Poi man mano Che liberi le torri Che sono presenti In queste zone Diventi tu Il cacciatore di quella bestia E poi la liberi E' fighissimo Mi è piaciuto un botto Ma lo sono anche platinato Un giochino di merda Di per sé Però una storia interessantissima E poi una lore Veramente c'è dietro Uno spiegone Perché tu non sai Chi è lei Da dove cazzo arrivi Pian piano lo capisci Lo comprendi Veramente bello Ve lo consiglio The Pathless ragazzi Se potete recuperatelo Ti piacciono i anime Assolutamente no Du Process Du Process Du Café Annapurna Interactive Non so che cosa senti Other Wilds E' sempre fatto Dalla Annapurna Questo assolutamente ragazzi Recuperatelo Perché questo è un gioco Che ha vinto diversi premi Con il tempo Ed è un gioco Che Dire artistico E dire poco Esploratore Siamo bloccati In un loop temporale Dobbiamo salvare Il nostro sistema solare Dall'esplosione del sole E quindi Dovamo rivivere Rivivere Lo stesso momento Finchè non capiamo Come cazzo uscirne Bello Bello L'abbiamo finito Portato il live Si finito No assolutamente no Ha fatto una serie Sui vampiri Si probabilmente Si Hunt Showdown Della Crytek Ragazzi Continuate A A consigliarcelo L'abbiamo già portato Hunt Showdown Lo conosciamo A memoria O meno a dito Si da lì è venuto Da esatto Da questo gioco Other Wilds E cicciato fuori Il meme Capirai tra 15 minuti Per ogni 15 minuti L'universo Il sistema solare Così come lo conosciamo Veniva deglutito Dal sole Annapurna qualità Non sempre Non sempre Tipo ad esempio Matam Un gioco dove Lo leggo Perché è difficile Un gioco d'azione Sviluppato da Funomena E pubblicato da Annapurna Interactive È stato progettato Da Keita Takahashi Meglio noto Per aver creato La serie Katamari Damacy Ed è stato rilasciato Per Playstation 4 Windows Il 17 dicembre 2019 Giocato da tre persone Florence Abbiamo Donut County Altro gioco Sviluppato da Ahena Takahashi Ahena Takahashi E poi abbiamo Ashen Sempre sviluppato Dall'Annapurna Questo qua è un Souls-like cooperativo In due giocatori Carino Se volete Una sfida interessante Bello Non eccezionale Ma non male Io ve lo consiglio Oh ma anche questo qua L'ho già visto Però non l'ho giocato Forse Non mi ricordo più Non mi ricordo più The Unfinished One Anche questo Interessante Journey Sempre fatto Dall'Annapurna Cioè ragazzi Qua abbiamo Questo qua ha vinto Gioco Indie Dell'anno All'epoca Quando uscì Uscì per Playstation 3 Cioè stiamo parlando Di un gioco Della Madonna Journey Proprio Il picco Uno dei picchi Artistici più alti Nei videogiochi Per me almeno Veramente arte Sto gioco Flower Una merda Memory Blu Non so cosa sia Thirsty Sweater Non so cosa sia Manco questo Insomma in sostanza Hanno fatto dei giochini Molto interessanti Che vi consiglio Di recuperare In qualche modo Secondo me Ci sta Il bello giorno È veramente bello Eh sì Little Nightmares Non l'hanno fatto loro Che ne dici Di rifare In Sound Mind No Una volta finito Ma poi Non ha molta Rigiocabilità Quel giorno Ma perché dovrei Rifarlo Mi voglio male Giochi isometrici Non ne hanno fatti Basta spammare Le solite 5 4 domande Cazzo Sì ma togli il cuore Andrea Non c'è bisogno Non c'è bisogno Di essere buoni Basta spammare Sempre le solite 4 5 domande Che fate ogni Cazzo di sera Ragazzi Perché poi Una certa Divento idrofobo Poi non vi cago più E poi mi scrivete In privato su Twitch Ma non mi rispondi mai Eh ragazzi Figa Porta Jumanji Ottimo Jumanji il gioco O Jumanji Ma Jumanji il gioco da tavolo O Jumanji il gioco Perché c'è un gioco Elettronico Di Jumanji Si chiama Jumanji Incredibile Grazie Ciao Mi chiamo Brian Grazie Brian Grazie bestiaccio Ma è liquido che svapi Non puoi Dirlo per copyright Perché una volta Te lo chiedo Ma io rispondesti Placenta di cane No non è placenta di cane Non è È un'altra cosa del cane Ma ragazzi Non vi rispondo Perché non ne ho idea Non sono cattivo Mi disegnano così Dove cazzo è Non ce l'ho manco qua Non lo so È una roba al whisky Secondo voi Che cazzo posso svapare io Secondo te Eh God of War Ragnar Lo porterai in live O su Youtube Su Youtube Non in live ragazzi Mi spiace Ma devo Devo godermelo Quel gioco Probabilmente lo porterò in live Dopo averlo già giocato Per i cazzi miei Prima E averlo platinato A meno che facciamo Un road to platino Su Youtube Ma dipende Perché è un gioco A cui tengo tanto 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 La parte cabaia del cane Certo Il culo Porta The Binding of Isaac Lo conosci? Sì ma Johnny Johnny non è mica uscito Sul telefono Come Sky Children of the Night No Non credo sia uscito Sul telefono Credo su Switch Poi che la Switch Sia un telefono Questa è un'altra questione Ciao Nintendo Marca di birra preferita L'Ignusa Sapete che adesso Sapete che adesso ci sono Sapete cos'è successo Con l'Ignusa Comunque non è la mia marca Di birra preferita Perché ogni volta mi dite Dai 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 L'Ignusa è la più buona Ecco sapete che è successo Si sono contaminate Le salde acquifere Al di sotto Del posto Dove ciappano sull'acqua Per fare la birra E hanno mandato Non so quanti lotti di birra In giro per l'Italia Per il mondo Con i livelli Di florina Più alti del dovuto In sostanza la gente Si sta bevendo floro E neanche lo sapeva La birra più buona Che abbiamo Poi mi dicono Perché non bevi la birra italiana Non mi piace Semplicemente Se la bevo È perché mi sono Sono obbligato Cioè vado al bar E chiedo Che birra avete Quella bionda A quel punto capisci Che Insomma La scelta È una foto di te Senza barba No ma Una foto di me Senza La foto Cioè c'è solo la barba C'è proprio C'è una foto Immagini una foto Sfondo bianco C'è solo la barba Il resto non c'è Perché prima Non c'era niente di me C'era solo la barba Agli inizi Ci fu solo pelo Harry Potter Lo porto Sì ma Non lo porto io Lo vuole portare Andrea Quindi probabilmente Lo porterà Andrea Ne ho bevuto uno oggi Come stai? Hai i tremori? Come me? Come era il signore oscuro? Oscuro? Sì Ti piace la monster? No La Rederic? Non è male Non è male Non è male la Rederic Effettivamente Qual è il gioco che ti ha emozionato di più Il gioco che noi comunamente chiamiamo la vita Non lo so ragazzi Il gioco che mi emoziona di più Posso dirti nell'ultimo periodo Ripeto God of War Ho pianto solo due volte Io non sono uno che piange Quando utilizza media interattivi Come film eccetera Bla 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 Piango rare volte Ho pianto due volte in sostanza Io con i videogiochi The Last of Us Due Per ovvie ragioni È God of War 2018 Quando Kratos finalmente mette la mano Sulle spalle del figlio Basta Fate voi Non l'ho mai visto The Boys La birra du The Monde è troppo licurosa Fa schifo Fa molto schifo Hai mai giocato ad Assassin's Creed? Ma c'è Erzio Ma c'è Erzio Il gioco di stasera si può giocare solo su Playstation E su PC se non erro Non vorrei dire cagate però Cerchiamo Allora Stray PlayStation 4, PlayStation 5 e Windows Sì PlayStation 4, 5 e PC Saghe TV Vi deludiche preferite Ragazzi voi mi fate domande Alla quale uno non può rispondere di getto Perché se vi faccio la stessa domanda a voi A meno che avete visto tre robe Non sapreste dare una risposta Perché usufruiamo di troppi prodotti Troppi E io ho poca memoria Una combinazione vincente Dovrei pensarci su Almeno 40 minuti Fino ad ora che ne pensi di Stray Che secondo me è un buon prodotto Un po' commerciale ma un buon prodotto Cioè è figo Sicuramente dal comparto tecnico è eccezionale Le movimenti del gatto sono Sono belle Fate bene Sembra effettivamente un gatto Il pelo è sempre Un deficit Però Considerando che è appunto Un gioco sviluppato da Annapurna Che solitamente non hanno chissà quale grande budget Devo dire che sto gioco è fatto coi controcoglioni Mi piace anche il gameplay Perché è esplorativo Bello E vabbè poi l'interazione interessante Il robottino Che ci permette di fare Quello che il gatto da solo non può fare Praticamente tutto Sono simpatico Come inciampare dentro un trombino aperto Ma la chat Ok non mi andava più la chat Marca di dentifricio preferita La pasta del capitano Eh vabbè capito TV, Supernet o Valcine Ma Signore degli Anelli Videoludica Resident Evil Capisci cosa intendo dire? C'è grazie al cazzo Con tutto rispetto Però Comunque Resident Evil Come videoludico preferito Cazzo c'è molto meglio Attenzione Però sì Mi ha portato la barba lunga Pensate un giorno Ce l'avevo più lunga Ma era impossibile fare tutto Nella vita Marca di lavatrice preferita Bella Whirlpool Ovvio Pasta col sugo Grazie mille Per i 22 Incredibile Incredibile 22 mesi Si va avanti È sempre un piacere Venire Io non vado oltre Con il messaggio Grazie comunque Pasta col sugo Bestiace dai Chiudiamola qui Vado a portare fuori Locane Fate i bravi Fate i boni Domani alle 21 e 30 Siateci perché c'è Cosa c'è Andrea domani? Non mi ricordo più Andate su Discord Per la programmazione Mi raccomando Fatilo Così la sapete Io no Io non la so Voi la sapete E domani c'è Il tuo dramma Che gioco è? Dai Cristo Rispondimi Dio bono Che cazzo Cos'è? Ah We were here forever No non c'è We were here forever Facciamo altro Siateci domani Che faremo altro Alle 21 e 30 Con Andrea In live Qui su Italia 1 Grazie per tutto Bestiacce Spero vi siate divertiti Trovo abbastanza interessante Questo stream Quindi lo continueremo Nei giorni a venire Amen Grazie 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 Fa caldo Porca puttana Fa un caldo Lancinante Ci vediamo domani Grazie Bestiacce di cuore Grazie per la compagnia Che mi fate